Ben ritrovati da Simone Nardone, Covid-19 rallenta per il secondo giorno di seguito il numero dei nuovi positivi nelle ultime 24 ore, 106 nuovi cittadini della provincia Pontina che sono risultati positivi al virus, secondo quanto riportato dal bollettino ASL, 21 i nuovi casi nel sud della provincia, vengono registrati purtroppo anche 3 decessi, di cui un paziente di Formia, uno di Terracina e uno di Latina. A Radio Boa in mare, ma l'imbarcazione è regolarmente ormeggiata, nei guai finisce il comandante di un peschereccio. Nel dettaglio, nei giorni scorsi, gli uomini della Capitaneria di Porto hanno ricevuto il segnale da un dispositivo di un'imbarcazione che ha fatto temere per il peggio. Intervenuti nello specchio d'acqua della segnalazione, però, i militari si sono resi conto che qualcosa non quadrava, dopo le verifiche del caso, hanno scoperto che l'imbarcazione, il cui dispositivo era stato presumibilmente reciso e gettato in mare, era tranquillamente ormeggiata a Formia. Crisi politica a Formia e questione bilancio è di ieri pomeriggio la notizia che il commissario ad acta Maurizio Alicandro ha dato il suo ok dopo aver verificato i dati di bilancio, escludendo ovviamente gli emendamenti della maggioranza posti a salvaguardia in quanto non approvati. Bloccati dunque gli oltre 2 milioni di euro erogati dal governo al comune di Formia per via della non approvazione in consiglio comunale, torna la polemica politica con il comune che in una nota attacca il gruppo consigliare di, ripartiamo con voi, di irresponsabilità. Lavori pubblici a fondi, programmati, diversi interventi urgenti per un totale di oltre mezzo milione di euro di spese. A renderlo noto direttamente il comune attraverso l'assessore competente Antonio Ciccarelli, che parla di asfalto, buche, marciapiedi, ringhiere, riparazione dei danni arrecati dai vandali e interventi urgenti nelle strutture scolastiche. Tutto questo nel piano urgente delle segnalazioni dei cittadini e su cui si interverrà nel più breve tempo possibile. L'esasperazione dei cittadini di Formia, residenti in Via delle Fosse, che da oltre un anno convivono con lo smottamento che ha fatto crollare un pezzo della strada che porta alle palazzine Ater, hanno preso così carta e penna e hanno deciso di scrivere al prefetto e per conoscenza anche al Ministero dell'Interno. Nello specifico i residenti di Via delle Fosse chiedono al Commissario Prefettizio di futura nomina di terminare l'iter amministrativo che prevede il ripristino della strada. Tornano i webinar targati obiettivo comune, prossimo appuntamento per domani, giovedì 14 gennaio alle 18.30, presso i canali social dell'Associazione Fondana. Sarà ospite Noemi Urso, capo redattrice e social media manager di Butac, bufale un tanto al chilo, uno dei siti più conosciuti di fake checking in Italia, online dal 2013. Il tema dell'approfondimento, ovviamente, le fake news. L'evento vede Radio Civite in Blu come media partner e il patrocinio della Casa della Cultura. Questa era la nostra ultima notizia, prima di salutarci vi ricordiamo come sempre che sul nostro sito web www.radiociviteinblu.it trovate tante altre news. Un saluto da Simone Nardone e un buon proseguimento di ascolto su Radio Civite in Blu.